Siamo sempre in diretta su Country Live Web a TV, qui dalla grande festa country ospitale Bondeno di Ferrara a un altro grande DJ, grande questa volta cavolo, ma perché non me l'avete detto prima? Luca DJ, ciao! Ciao a tutti, grazie! Allora, direttamente da Mantua, oltretutto maestro dei Country Star, il più grande gruppo country di Mantua! Mi ci vuole la sedia, devo alzarmi? Luca, com'è stato venire da Mantua fino qua? Noi siamo abituati che collaboriamo spesso con Stefano, con i Wai Digo, facciamo diverse manifestazioni, infatti è piacevole fare con diversi gruppi, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Verona, cerchiamo sempre di unire e fare male delle belle feste, tipo questo del 17 giugno che ci sarà il Festival Country Western Dance Mantua, vi aspetto tutti perché sarà un evento eccezionale! Raccontaci un po', uno, come funziona il programma, due, dove troviamo le informazioni, perché avrai sicuramente una patina Facebook? Sì, allora, su Facebook c'è Country Star Dance School Mantua, che è la pagina Facebook, oppure su www.countrystar.it, trovate tutte le informazioni di questa grande manifestazione che è la sesta edizione, vedrà quasi 500-600 ballerini ballare tutti insieme delle varie città linitrofe di Mantua, naturalmente i Country Star e anche altri gruppi di Mantua ci sono presenti, sarà bellissimo come serata perché ormai è un ripetersi di anni e ogni anno è sempre meglio, faremo il possibile per renderla sempre più grande, sempre più piacevole, come questa manifestazione qua che pian piano ha preso piede, sta diventando sempre un punto di incontro fisso ogni anno dove non si può rinunciare. Allora Luca, la stessa domanda anche a te, tu sei un po' più lontano, c'è differenza tra il Country di Mantua e il Country di Bologna e di Ferrara? Allora, per quanto mi riguarda io cerco di tenere una linea di Country di coreografie è simile a tutti i gruppi vicini a Mantua in modo che i miei ballerini abbiano la possibilità di andare nelle città linitrofe quando io magari non organizzo serate e rendere modo che loro possano ballare sempre, in qualsiasi gruppo loro vadano, non voglio fare una cosa di nicchia e quindi mi consulto tutto l'anno con i maggiori DJ, con i maggiori maestri che ci sono nel nord Italia per vedere di fare sempre un programma comune, questa è la mia politica ma penso che alla fine cambi in meglio perché comunque è una scelta che è risultata positiva, diciamo. Allora ringrazio tantissimo Luca DJ, vi ricordo venite perché lo troverete anche lui per tutta questa sera, per tutta questa notte, fino a domattina, aiuto? Sì, 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 fino a domattina, finché si può, finché Stefano non ci caccia via stiamo qua. Ecco, vi troverete ancora alla consola a suonare musica mentre vi sarà gente con la bicchiera di birra in mano stessa sotto i tavoli di ogni, ci sarà stasera Luca. Lo raccogliamo in mattinata quello, nessun problema. Allora vi aspettiamo, grazie Luca e buon proseguimento di serata, grazie.